Senza quattro titolari del calibro divano, maschio, rapino e vitale, il Chieti non va oltre il pari casalingo con la Yesina, riuscendo ad evitare il K.O. a due minuti dalla fine, grazie ad una prodezza di esposito il migliore fra i suoi. Alla fine l'1-1 del Guido Angelini è stato probabilmente il risultato più giusto fra due squadre che si sono equivalse, pur senza brillare. L'equilibrio dell'avvio è rotto al quattordicesimo quando Mattia Cardinali, direttamente su calcio di punizione, fa correre un brivido ai tifosi nero-verdi con la palla che colpisce palo e traversa prima di essere allontanata da Cucinotta. I ragazzi di Ronci rispondono al sedicesimo con Corvino che trova però la respinta di Tavoni. I marchigiani si dimostrano un osso duro e così il gioco ristagna soprattutto a centrocampo con poche emozioni e gioco. Bisogna così attendere il quarantaduesimo quando è esposito su calcio di punizione dai 20 metri a chiamare Tavoni alla parata della domenica. Ma non è questa l'ultima emozione del primo tempo visto che al quarantaseiesimo Carnevale sorprende la difesa teatina siglando il gol del vantaggio marchigiano. Nella ripresa ci si aspetta di più soprattutto dei ragazzi di Ronci che invece dimostrano di essere in giornata piuttosto negativa, incapaci di creare gioco e azioni da gol. E così i taccuini restano immacolati fino al ventinovesimo quando il noi è entrato Carlini direttamente su calcio d'angolo, impegna Tavoni costretto a respingere con i pugni. Il finale di gara vede al trentacinquesimo poi un tiro al lato di Nicola Cardinali imitato al trentottesimo da esposito che però al quarantatresimo rimette la partita sui binari dell'equilibrio facendo esplodere la gioia dei tifosi neroverdi. Poi al novantatresimo i marchigiani reclamano un rigore per un contatto sospetto fra Schina e Sassaroli non rilevato dall'arbitro. Giusto così? I ragazzi hanno disputato un'ottima partita sia in fase di contenimento sia nella fase di ripartenza, sono per l'ennesima volta molto soddisfatto del gioco e il risultato sinceramente è chiaro, prima della gara un 1-1, non è che lo accettavamo di buon grado magari, però per come abbiamo disputato, per come avevamo preparato la partita sinceramente poteva andare molto meglio. Tittarelli, la nostra punta centrale, non è stato fischiato un fallo, l'ultimo episodio il signor arbitro ha fatto cenno, anzi ha detto chiaramente rialzarsi che non era fallo, il giocatore si è alzato, ha un taglio sotto il mento, ora in ospedale sembra che abbia messo 5-6 punti e alla fine c'è stato un rigore, secondo me, non concesso al novantatresimo, credo, giù di lì, su Sassaroli che ha anticipato il portiere, il portiere è franato addosso al ragazzo, gli ha spostato completamente il parastinco, gli ha tolto la gamba d'appoggio e poi dopo ha preso il pallone. Se uno prima fa fuori l'avversario e poi prende la palla, di solito è rigore. Non era giusto perdere questa partita, abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo cercando di tenere palla, ho detto proprio a questi ragazzi di non forzare mai la giocata perché la Jesina sarebbe venuta a giocare sotto la linea della palla con giocatori molto veloci nelle ripartenze e dovevamo stare molto attenti, quindi dovevamo gestire quasi sempre noi il pallone, penso che l'abbiamo fatto, siamo arrivati a tirare in porta diverse occasioni, abbiamo avuto una bella occasione su un taglio sul Corvino che il portiere è stato bravo a fare la parata, abbiamo tirato da fuori aria diverse volte perché scardinarli non era facile, al primo tempo secondo me abbiamo fatto bene, forse abbiamo giocato con un ritmo di gioco non velocissimo, dovevamo alzare un po' il ritmo di gioco, però abbiamo gestito bene il controllo del pallone, abbiamo fatto un errore grave nella fase difensiva e su un errore fatto da Maxime Girón hanno trovato questo pareggio. Oggi la squadra abbia dato ancora una volta una prova di avere un cuore importante, di non mollare mai, di crederci fino alla fine, sono contento, diamo seguito ai risultati fatti finora, è un punto che mi lascia contento perché per come si era messa la partita, queste sono partite che le perdi.